buongiorno allora ci tengo a dirvi che in realtà poi ieri sera mi sono lavata quindi tranquilli sono stata letta pulita prima che cominciate a dire su e adesso sono le 10 10 noi abbiamo già fatto colazione in questo hotel dove la colazione è fantastica e adesso tra esattamente un'ora abbiamo il treno per andare a torino sta felice jimmy check in nel terzo hotel nel giro di tre giorni almeno su questo stiamo due notti è l'una se non sbaglio e 5 siamo in una zona un po fuori torino quindi adesso per franza andremo supermercato che proprio qua davanti ci prenderemo della roba e mangeremo qui penso o fuori sarà bella giornata sparco e poi con calma nel pomeriggio andiamo a fare un giro però siamo capo perché alla fine mi hanno dormito cinque ore che un giro si va allo eventus stadium c'era storia di un grande amore adesso mi toccherà davvero entra in noi siamo in una città santa finalmente la città della juve sai che così mi farei perdere tutti gli iscritti noi juventini io sono neutra ragazzi ci ho coraggio ad essere noi juventini ci ho coraggio ragazzi ok chiudo qui questo video si si no ma questo non si mette su questo letto con questa luce mi esce bicipite non mi alleno da tipo una settimana mai non ne abbiamo coraggio a fare ah comunque c'è allora prima regola del fight club mai andare a fare la spesa quando si ha fame e sono le due e vuoi mangiarti il supermercato siamo usciti per il pranzo di oggi obiettivamente forse anche forse di domani a questo punto due fiocchi di latte un chilo di insalata Jimmy prosciutto crudo prosciutto crudo pomodori anche conosciuti come caramelle qui ragazzi abbiamo preso dei piatti costavano due euro non so poi come me li porterò via però ceci Jimmy e no queste sono caramelle di pollo certo caramelle di pollo non si può ben sentire ma sono fritte no ho fatto in forno pollo allo spiedo il polletto di Jimmy gallette posate niente di che insomma tutto questo 20 euro non mi sembra molto conveniente ah ma aspetta questo no non capisco perché sinceramente ah è un finocchio finocchio fa sempre bene la salute ora noi si pranza e poi ci si cambia ci si veste si esce ciao quando vinci il premio miglior fitness influencer pensi di essere ricca e famosa ma poi ti ritrovi a mangiare in una camera d'albergo pranzi improbabili dove trovarli guarda il panzetto siamo insieme che bello tu hai proprio una però la mangiamo si va bene siamo in piazza a castello marcondirondirondello ok quanto voglia vedi troppo che bello questo ti fa voglia di andare al cinema oh Jimmy questo negozio c'è anche a Padova allora sotto vostro consiglio siamo venuti al Kipling e ora stiamo iniziando con come antipasto un'insalatona di gamberoni avocado eccetera comunque ci sono 5 gamberoni e l'insalata costa 10 euro bello insomma si bella però diciamo che questi si sono un po' rifatti io ho calamaro ripieno di spinaci burrata no bufala sul letto di pomodoro zucchine grigliate e cos'hai tu? gnocchetti con granella di pane questa è la granella di pane e bungue e bungue no questa è bufala e spinaci oh ciao raga ciao 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 sono innamorata di questa giaca bello sto viale buongiorno buongiorno siamo usciti a fare un altro giro per Torino all day long perché oggi staremo fuori tutto il giorno fino alla sfilata di questa sera ormai ci sentiamo dei veri fashion blogger perché ci cambiamo nei bagni dei locali dei ristoranti grazie all'esperienza di Jimmy eh beh no eh si tu ti hai sempre cambiato nei locali? no in questi casi in queste situazioni si tranquillamente so dove andare certo tu sempre quante volte sei stata una sfilata? ieri non sfilata se ti devo raggiungere a differenza tua invece di arrivare bello, puzzolente, sudato dal treno va bene? io ho l'impressione che da questo vlog verrà fuori il fatto che io sono una lurida e sempre sporca e tu principino sempre pulito ma perchè io lo faccio vabbè senti secondo me l'igiene è sopravvalutata quindi i dettagli ma tu mi vuoi bene anche se sono sporca? senti la scella, senti Jimmy questa è piazza Carlo Alberto non sta a far tanto ora lo gnorri oh ragazzi dopo la ricerca perchè ovviamente è tutto chiuso di domenica si pranza qua dove fanno senza glutine ah ok mcdonald io e Jimmy siamo un po' royal si due royal e un culo di mucca carino con roviola al forno e caramelle ah ottimo anche tu hai i crackers gambusera carne cruda con olive taggiaschea roviola al forno con ruccole e pomodorini io ci muoio dietro i formaggi in Italia i controlli dovrebbero essere alle dalle no ma i controlli ci sono sempre comunque proprio la qualità organolettica e di come sono stati alimentati gli animali questo direi che merita vai vai raga ma che mercato c'è qui c'è una roba assurda una roba assurda guardate quanti cesti un cestino di lamponi si posso darvi altro? no un euro io ora mi scopro di tutto questo come sei? che ignoro comunque io vorrei farvi capire il disagio di noi celiaci c'è questa che è un'insalata caprese scomprata al supermercato non la possiamo mangiare perché può contenere tracce di glutine in un'insalata caprese c'è capito? è facile mangiare senza glutine se uno non guarda le contaminazioni però c'è tanto traccomprate e cucchiaino sono freschi come sei lusco sono freschi Jimmy che deve sempre parlare con tutti ciao tu sai dov'è una fontanina? la fontanina è dietro aspetta sa sa perché io ho comprato di mirtilli e non so dove lavarli ma cosa pensa del tempo oggi? pioverà? cioè non per dire ma Jimmy è ancora lì Jimmy scusa considerami grazie signore abbiamo trovato un mega parco dopo ci andiamo a divertire là quante stronzate hai detto addierno no spiegamelo e ci guistiamo i mirtilli adesso te ne mangi una alla volta non tre no no Jimmy una alla volta se no devi devi dobbiamo trimezzare la tua quantità eh non ho quel caso buoni un grande vecchietto guardate che bello ragazzi mi danno a me senza glutine un menù rosso e a Jimmy il menù blu e c'è di tutto menù senza glutine no che bello oh finalmente ho un menù cioè ho un menù Jimmy solitamente ho un piatto yes dopo io sono fanno prendo una di queste te lo vedo subito cosa? no questa è senza glutine alla canapa cosa vuoi mangiare tu? dopo se ho fame ne prendo una ah ok il problema è che siamo corti lo tempo mannaggia yay ragazzi finalmente una pizza senza glutine alla canapa drogata eh gusto a terra no è incredibile sono in paradiso cambio last minute più stop di quelli rapidi rapidi torino fashion week serata 2 questo sembra un paralume sono in paradiso appalti appalti pagano bambino c'è barri ahah c'è barrio ahah c'è barrio ahah c'è barrio Siamo in stazione a Torino che stiamo aspettando di prendere i treni Jimmy va a Firenze e io vado a Spezia dove mi aspettano 4 giorni di tesi perché devo chiuderla prima di partire per la Puglia Speriamo che il video vi sia piaciuto Noi ci vediamo per la mia laurea e poi passeremo un mese insieme Passeremo un mese insieme Falso No, noi stiamo a guardare che facevano le battutine e mi offendevano Ora è carino coccoloso Che bello, che bello, un mese insieme Non vedo l'ora Ecco, così magari sto apprezzando di più E basta, quindi noi ci vediamo nel prossimo video che sarà il video della Puglia Adios Ah sì, se il video vi è piaciuto mettete mi piace Iscrivetevi al canale, iscrivetevi al canale Iscrivetevi al canale, iscrivetevi alla campanellina Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti